Il tempo previsto dalla norma prevede il rilascio immediato per le certificazioni anagrafiche di residenza, stato famiglia e quelle desumibili dagli atti anagrafici, il rilascio entro 40 giorni per le certificazioni storiche, ovvero attestazioni di situazioni pregresse, ed infine il rilascio di 60 giorni per le ricerche particolari che coinvolgono più soggetti. Il servizio è gratuito se la richiesta del certificato è fatta via e-mail tramite il portale Dime. Se il servizio è rilasciato allo sportello oppure per corrispondenza, prevede il pagamento da parte dell'utente di 0,26 centesimi per i diritti di segreteria ed eventualmente di 16 euro per l'imposta di e il bolo. 0,26 centesimi per i diritti di segreteria. Grazie.